Capitano Luca Toti, brillante operazione messa a segno questa mattina alle prime luci dell'alba dai carabinieri, che cosa avete trovato? Sì, questa mattina intorno alle 4 abbiamo fatto irruzione qui a Tersigno nei pressi della clinica clandestina cinese dove abbiamo trovato 15 persone che stavano festeggiando a base di alcol, droga e sesso. Ci sono stati degli arresti e delle denunce? Sì, 6 persone di nazionalità cinese sono state denunciate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, le altre 9 persone sono state arrestate, le altre 9 persone semplicemente denunciate e la proprietaria dell'abitazione, oltre ad essere arrestata, sarà segnalata all'autorità giudiziaria per aver gestito una casa di prostituzione. Infatti all'interno abbiamo rinvenuto non solo delle sostanze stupefacenti, tra cui la marijuana e l'ecstasy, abbiamo rinvenuto anche dei preservativi e i carabinieri dal momento in cui hanno effettuato l'irruzione hanno verificato che stavano ponendo in essere all'interno dell'abitazione degli atti sessuali. A proposito della clinica clandestina di cui parlava prima, a che punto sono le indagini? Sono in corso le indagini, stiamo verificando insieme al personale del NAS tutto il materiale che è stato rinvenuto, tra cui certificati medici e stiamo effettuando la catalogazione dei medicinali. Sono molti cinesi che a Tersinio gestiscono attività illecite? Non sono molti cinesi, comunque ci sono delle irregolarità che ovviamente vanno perseguite, c'è una stragrande maggioranza di cinesi in regola, però c'è anche una minoranza di cinesi clandestini che pongono in essere anche attività illecite. Non solo a Pompei, il fenomeno della prostituzione ha trovato terreno fertile anche qui? Qui anche a Tersinio abbiamo scoperto ovviamente delle case di prostituzione, case di appuntamento gestite da cinesi per cinesi, quindi una forma di sfruttamento che avviene dai connazionali nei confronti dei loro stessi connazionali. Grazie.